La politica a nocere inferiore riparte da sinistra italiana. Un gruppo di coraggiosi si è ritrovato per la fondazione del primo circolo di Sì, temerari per essere propositivi nonostante l'antipolitica galoppante che caratterizza il nostro tempo, ma anche per l'area pesante che si respira in città, alla luce delle inchieste giudiziarie che hanno travolto la politica cittadina. Oggi si sceglie il segretario dopo una discussione sui temi del lavoro e della sicurezza dell'ambiente con i rappresentanti di sindacati e associazioni. C'è l'esigenza che il partito si formalizzi in città, anche perché già presente da molto tempo, da quando abbiamo avuto la possibilità di iscriverci, si è già formato un gruppo che da molto tempo lavora sul territorio. E quindi era giusto formalizzare un circolo di sinistra italiana, anche perché partiamo dal brancaccio, con l'idea di voler essere non solo delle camere stagne, ma di aprirci, lavorare sugli obiettivi dei territori in rete con chi è dalla nostra parte e condividendo gli obiettivi di associazioni e movimenti. Un congresso con polemica, alcuni iscritti hanno espresso perplessità sull'appuntamento, prendendone le distanze. Forte la presa di posizione del consigliere comunale Alfonso Schiavo. Noi siamo qui, abbiamo proposto un congresso ormai nel mese di luglio, abbiamo coinvolto tutti, il fatto che non siano presenti senza una spiegazione chiara, pur avendo partecipato alcuni alle prime riunioni che abbiamo fatto, e ringrazio la CGL che ci ha dato lo spazio, perché non abbiamo nemmeno uno spazio per farlo, poi aspettare la sera della vigilia per dire che non si è d'accordo con questa manifestazione, che addirittura è stata promossa e prodotta senza coinvolgere nei tempi opportuni tutti quanti, questo è un chiaro attacco alla direzione provinciale del partito, non certo a noi, perché i congressi, come sanno tutti quanti gli iscritti di Sinistra Italiana, sono congressi che vengono gestiti a livello provinciale per quanto riguarda le convocazioni, per quanto riguarda tutto l'allestimento. Se vogliamo fare politica dobbiamo essere coraggiosi, dobbiamo metterci in gioco, dobbiamo metterci in discussione, siamo pronti a farlo con tutti, anche con tutti gli iscritti che sono di nocere inferiore, oltre che con la città. Grazie a tutti.